Benvenuti, domani è lunedì 5 marzo e la chiesa fa memoria di San Adriano. Attenzione, maltempo su buona parte del nord, specie tra Piemonte e Lombardia, con rovesci temporali forti e nevicati abbondanti a partire inizialmente dai 900-1200 metri sulle Alpi, poi in progressivo calo fino a 600 metri la sera. Piogge diffuse sul resto del nord, più irregolari e deboli tra Basso Friuli, Venezia e Romagna in giornata, ma poi peggiorerà la sera anche su Mila Romagna tutta, con rovesci temporali e nevicati a 900 metri. Locali piogge al mattino sul basso Tirreno, il nord della Toscana, piovaschi su Campania e Sardegna, poi al pomeriggio di inserata peggiorerà su tutto il centro con piogge sparse sul sud peninsulare. Il calo della pressione atmosferica determinerà un peggioramento sui versanti tirrenici con piogge rovesci sulla Campania, più soleggiato ed asciutto all'interno, fenomeni anche sull'ovest della regione, temperature stabili o in lieve calo, venti moderati da sud-ovest, mari mossi. Grazie a tutti!